benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video siamo tornati con la guerra degli iscritti come potete vedere ci sono ancora tutti e 44 gli stati compresa l'andorra e vediamo come andrà vediamo l'impero del sole cosa farà e allora nei primi 45 turni abbiamo stiamo vedendo non è successo niente per ora ancora il mondo è apparecchio in pace ma vedremo in futuro quali sorprese avremo il simbolo della guerra la vedremo indicata qui a destra con una fiammella quindi se vedete comparire una fiammella è perché siamo in guerra con qualcuno io spero di non perdermene nessuna anche perché vedervi scomparire così mi dispiacerebbe ed ecco la prima guerra repubblica socialista dell'occidente contro federazione imperialistica britannica c'è anche un piccolo stretto di mare quindi attenzione se volete controlliamo anche il numero delle truppe già che ci siamo tanto non è in alcun modo influenzato da me niente per i resti in europa non hanno niente da fare ottimo direi finché c'è una sola guerra ce la possiamo seguire meglio esatto proprio come avevo appena detto italia è impero ottomano sono in guerra tra loro loro hanno il 50 per cento di provincia in più ma noi non ce ne frega niente quindi al momento ci sono due guerre in corso non una ma due guerre in corso vediamo come andranno questa sembra quella che potrebbe risolversi diciamo più velocemente anche se ormai ho i miei dubbi che cos'è la cosa bianca università ah che idea carina per il resto vabbè oh l'italia perde una provincia vedo oh ci sono messi oh ma quante province hanno preso e com'è che di colpo siamo in guerra con il regno dei polli e anche con la contea delle fiandre qua con l'impero delle fiandre vabbè intanto recuperiamo quello che è il nostro prima cosa ma come facciamo essere in guerra con tre popolazioni e nel frattempo ci sono altre tre guerre l'impero svedese che si è inimicato impero di norvegia e bulgaria e impero albanese che combatte con l'impero con regno borbone vabbè questa credo sarà la guerra più veloce vediamo l'impero albanese in difficoltà scherzavo ah ecco in tre turni è finita questa vabbè per ora l'italia pareggia questi pareggiano ah l'italia è anche in guerra con l'italia è in guerra con tre popoli insieme wow è tutto così confusionario l'impero svedese sta annientando la norvegia mentre norvegia che controlla 16 territori con zero night vediamo come andrà nel mentre l'impero tedesco non fa niente ma lo stato di cardi combatte contro la sardegna del nord mamma mia sono scoppiate colpo 100.000 guerre so solo che zero night se la sta vedendo parecchio male perché la sua norvegia sta venendo asfaltata probabilmente anche se ancora nulla è deciso in questa guerra tra iscritti tutto può succedere fatto sta che ci siamo ancora tutti ci siamo ancora tutti dai dopo 140 turni nessuno pure su può dirsi spacciato so solo che l'italia sta attenzione sta schierando tante truppe però verranno subito respinte dal nemico olandese non me ne sono dimenticato è appena scoppiata una guerra tra napolandia e diciamo il kosovo ovvero il regno di sieta credo sarà una guerra molto lunga anche se sono piccolini vedremo vedremo l'italia è quindi in guerra con due nazioni perché ha chiesto la pace al regno dei polli molto saggiamente l'impero svedese ha annesso tutta la norvegia ma ecco l'arma segreta la norvegia vanta un'isoletta che gli altri non vantano utile per scappare in caso di necessità anche se ormai è diventato l'impero più scarso ma anche l'estonia se la sta cercando vuole essere sconfitta non lo so ma per il resto l'italia pareggia non ha nessuno contro stato di cardi qui non hanno fatto ancora nulla e per adesso è una sorta di stallo non succede nulla per ora ma vedremo intanto l'impero di norvegia qua è quello che vorrei attenzionare un po meglio perché mentre la polonia si dichiara contro due stati e questo potrebbe essere un problema per gli altri due stati perché la lettonia non ha forse la forza di contrastarli infatti li hanno arati oh mio dio ma con quale velocità cioè signori la lettonia di fabio maggio è stata devastata dalla polonia wow il primo stato ci saluta ma occhio anche all'impero fascista perché non ha accesso militare ma la repubblica democratica polacca sì nel mentre qua questi qua sono davvero forti nuova guerra tra stato di cardi e germania e impero tedesco ma anche tra finlandia zariste stato di cardi occhio lo stato di cardi in grandissima difficoltà e contro mezzo mondo non vorrei essere al loro posto ma tranquilli rimediamo subito anche perché l'italia è in guerra con mezzo mondo stanno succedendo parecchie cose mentre qua non vogliono fare nulla gli urta schierare sera loro vediamo ah va bene 100 truppe nel mentre non vorrei perdermi i conflitti ma è scoppiato un nuovo conflitto tra impero di sloven e napolandia napolandia che ora in grande difficoltà speriamo si risollevi perché non voglio vedere altri 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 decessi oggi fatto sta che siamo rimasti in 43 dopo il triste addio del del gran ducato di lettonia l'impero tedesco cerca di mettere in difficoltà lo stato di cardi che si trova impegnato in numerevoli fronti ma per adesso non c'è molto da dire se non che attenzione napolandia di colpo anche oserei dire si è fatta invadere ma resiste signori napolandia resiste con una provincia non so con quale miracolo ma resiste l'impero svedese domanda la pace alla norvegia di zero night quindi molte guerre sono finite ben tre ma non possiamo mai parlare di riposarci perché qua mentre un'altra tregua c'è stata wow in questo momento ci sono guerre in corso in tutto il mondo la sardegna del nord combatte con lo stato di cardi che combatte contro quattro nemici contemporaneamente c'è contro l'impero tedesco che lo sta devastando russia e finlandia dalle retrovie e la sardegna del nord e dall'assù anche in italia però ha tre nemici contro e dico nemici secondo impero ottomano che sostituisce lo stato di cardi per il podio l'europia è la federazione imperialistica britannica quindi per ora c'è un gran casino qui vediamo che succede a impero fascista è ora un puppet di repubblica democratica polacca sembra abbastanza memosa come cosa cioè la repubblica la polonia arresto suddito l'impero fascista però è ancora vivo e questo significa che nonostante sia diventato una marionetta potremmo dire è ancora vivo non possiamo considerarlo morto infatti vediamo ancora 43 stati vivi salviamo la partita e continuiamo un altro pochino non tantissimo ma per ora sì l'estonia se la gode da spettatore nel mentre che ci sono nuove guerre tra secondo restato di bulgaria il regno dei polli il regno dei polli ora combatte contro due nemici questo doppio richiesta di questa tripla anzi richiesta di accesso militare può significare solo una cosa che vogliono farla finire molto male ecco appunto se la bulgaria non si riprende in fretta il regno dei polli lo distruggerà fortunatamente ce la stanno facendo credo di averla pesantemente gufata esatto l'austria ancora un po tiene ma il regno dei polli in bulgaria ha fatto il devasto hanno ancora una provincia non è vero il regno dei polli ha terminato l'esistenza dello stato della bulgaria mi dispiace tantissimo ma il secondo stato a cadere e nel mente ci sono tre tregue regno dei polli e secondo stato di bulgaria anche con l'austria l'austria se l'è vista buona quindi il regno dei polli segna due tregue ma anche dov'è qua fammelo vedere lo stato di cardi che nel suo tempo è stato devastato wow e lo stato di cardi ha fatto sta facendo una maglia bruttissima fine nove province rimaste wow quindi se la matematica non è un'opinione e l'italia in guerra con un nemico in meno giusto dovremmo essere in 42 perché sono crollati finora soltanto tra virgolette soltanto bulgaria e lettonia no è lituania scusate la lettonia aspettate la lettonia c'è ancora e la lituania che è caduta l'ho visto male signori abbiamo già perso due nemici due nemici per quanto riguarda l'italia ma due iscritti per quanto riguarda la serie quindi direi che facciamo gli ultimi cinque turni e poi ci fermiamo uno e c'è una pace tra impero serbo e repubblica socialistica dell'occidente che manco si considerano secondo turno terzo quarto e c'è una tregua utilissima per l'italia con la spagna perfetto con l'europia e questo è il quinto salvataggio e per oggi basta signori e va bene qui lì nello stato di cardi è condannato credo a una bruttissima fine perché ha solo 10 province e lo stanno letteralmente arando per il resto che ve lo dico a fare siamo rimasti in 42 e pensate l'andorra ha superato napolandia l'andorra è in rimonta potremmo dire mentre qua non succede assolutamente nulla ma avremo di che divertirci con un regno dei polli che proprio dei polli non è e va bene ragazzi mi raccomando se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e quando penserò di fare una nuova guerra degli iscritti iniziate a preparare il vostro stato perché magari in futuro ne faremo qualche altra magari con l'america magari con l'africa ci potremmo divertire e va bene mi raccomando continuate a supportare tutte le mie serie e noi ci vediamo con un prossimo video